Dopo un breve periodo di impiego in nero avrebbe assunto due dipendenti con un contratto di lavoro che prevedeva un numero di ore inferiori a quelle realmente prestate. La promessa era di un futuro aumento di stipendio e l'accusa contestata dalla procura di Messina a un imprenditore del commercio di articoli medicali e ortopedici di Giardini Naxos. È stato arrestato dalla Guardia di Finanza per estorsione e posto ai domiciliari. Eseguito dai finanzieri di termina un provvedimento cautelare del GIP che dispone anche un sequestro di beni per 12.730 euro. Le indagini si sono basate su ricostruzioni documentali, intercettazioni ambientali e accertamenti bancari e avrebbero permesso di accertare che l'imprenditore, a fronte dell'aumento dello stipendio in busta paga, avrebbe costretto nell'ultimo triennio le dipendenti a restituirne una quota parte in contanti con la minaccia di licenziamento in caso di rifiuto. Grazie a tutti.